Sulle autonomie siamo convinti di poter trovare un buon accordo, l'importante ora è abbassare i toni, quando si fa una riforma si fa per qualcosa, a favore di qualcosa e non contro. Nel caso delle autonomie l'obiettivo è quello di ridurre il divario tra nord e sud, ma anche garantire maggiore autonomia, maggiore efficienza alle regioni. Quindi basta discussioni, mettiamoci al lavoro, troviamo l'accordo. Grazie. Grazie.